Per il Natale 2018 ci aspettiamo ancora più partecipazione da parte di enti pubblici, associazioni di categorie e imprese. È l'appello dell'assessore agli eventi, Filiberto Puzzu, lanciato nella conferenza stampa di bilancio delle manifestazioni del mese di dicembre fino a Capodanno, alla presenza delle varie realtà coinvolte. Per noi è stato molto positivo, abbiamo trovato un contesto molto vitale e quindi per noi il premio sicuramente si rinnoverà anche il prossimo anno. Un bilancio estremamente positivo anche secondo l'assessore Puzzu, confermato, ha spiegato, dalla risposta della cittadinanza e da una partecipazione civica entusiasmante. Una esperienza dalla quale partirà la programmazione del dicembre 2018, per il quale l'amministrazione comunale vuole sensibilizzare i soggetti coinvolti, nella speranza che possano fare massa critica, condividere i progetti e realizzarli insieme, oltre a sentirsi ancora più coinvolti mettendo in campo iniziative che fino ad ora sono state elaborate e realizzate dal Comune.